Buonasera a tutti, scusate l'assenza, mi vi do la buonasera col conte, buonasera che cosa mi hai cucinato? Pasta con le zucchine fritte, pasta con le zucchine fritte e poi da chi c'è, chi ti resti Cinzia? Dei totani, dei totani Cinzia, affatto lui, si era fregati? Ma erano già fregati, erano assai per lei, poi mi friggi le zucchine e ci dissi, per te due fettine bastano perché fritte ti fanno male Ma stiamo parlando di Cinzia no Clarissa? No, c'entra Cinzia Ah Clarissa, allora perché io mi hanno cammino Cinzia, Cinzia, ormai li confonde, perché tanto scrocca entrambe quindi Buonasera, però aspettate sempre il mio tocco ci sta Ci vuole la ricotta salata, ma ti sei che a grattugiarla, io non te ne grattugio, ciao e arrivederci Ma perché hai svelato questo mio segreto? Allora ragazzi ci starebbe la ricotta salata grattugiata, ma io mi sentivo a grattugiata perché ce l'abbiamo Ma mi sentivo e gli metto un'altra cosa, aspettate Ecco qua, ora è completa, buona cena a tutti Buona cena